Alle 12 di oggi sono scaduti i termini per la presentazione dei candidati sindaci e delle liste a loro sostegno in corsa alle elezioni comunali di Sondrio del 10 giugno. Per la poltrona di primo cittadino sarà sfida a quattro. A contendersi la successione ad Alcide Molteni nell'ultimo decennio ininterrottamente alla guida della città, sono Nicola Giugni, 48 anni avvocato, fino a pochi giorni fa presidente di AEVV, candidato del centro-sinistra. Marco Scaramellini, 52 anni, libero professionista, presidente dell'Ordine Provinciale degli Ingegneri, candidato del centro-destra. Fiorello Provera, 72 anni, quattro legislature tra Camera e Senato alle spalle, ex parlamentare europeo ed ex presidente della provincia, candidato civico. E Marco Ponteri, 45 anni, psicologo psicoterapeuta presso la neuropsichiatria, infanzia e adolescenza dell'ospedale di Sondrio, candidato del Movimento 5 Stelle. Per la conquista dei 32 seggi in Consiglio Comunale, in corsa 16 liste per un totale di quasi 500 candidati. La pattuglia più numerosa è quella a sostegno di Scaramellini, con 6 liste. Sondrio Viva, Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Sondrio Liberale, Popolari Retici. 5 le liste in corsa a fianco di Giugni, Giugni Sindaco, Sondrio Democratica, Partito Democratico, Sinistra per Sondrio, Sondrio 2020. Provera è sostenuto da quattro liste civiche, Provera per Sondrio, Crescere con Sondrio, Noi per Sondrio e Sondrio 4.0. In coerenza con la linea della sua formazione, Marco Ponteri è sostenuto dalla sola lista del Movimento 5 Stelle. Il 10 giugno, oltre al capoluogo, vanno alle urne altri sei comuni della Valtellina. In tutto si tratta di circa un quinto dell'intero corpo elettorale della provincia. Secondo la scadenza naturale del quinquennio di mandato, eleggono il Sindaco e il Consiglio Comunale i cittadini di Cosio Valtellino, Teglio, Chiesa in Valmalenco e Gerola Alta. Al voto anche i comuni commissariati di Albosaggia e Bema, dove le dimissioni dei consiglieri hanno fatto decadere in anticipo i precedenti sindaci.